Sì, preme innanzitutto ricordare che la navigazione degli acquascooter è consentita esclusivamente nella fascia di mare compresa tra i 500 metri e un miglio dalla costa in orario diurno e in condizioni meteomarine favorevoli. Si ricorda inoltre che l'uscita dagli approdi deve essere effettuata ad una velocità non superiore ai tre nodi e che il conduttore deve essere in possesso di patente nautica e quindi maggiorenne. Inoltre durante l'utilizzo deve essere indossato il giubbotto di salvataggio e il casco rigido protettivo omologato secondo le vigenti normative. Disposizioni similari vigono inoltre per gli strumenti di ultima generazione come ad esempio il flyboard e il jet lab flyer, dispositivi che sfruttando il flusso d'acqua generato dagli acquascooter permettono l'elevazione dell'utilizzatore sopra il livello del mare. Ecco anche per questi dispositivi è necessario essere maggiorenni in possesso della patente nautica e è possibile utilizzarli nella fascia di mare compresa tra i 500 metri e un miglio dalla costa. L'utilizzatore inoltre non può elevarsi a più di 10 metri sul livello del mare. La Capitania di Porto di Mazzara del Vallo in collaborazione con le locali associazioni sportive di lettantistica ha proceduto inoltre ad identificare e a creare un database di tutte le unità utilizzate a livello locale in modo tale da facilitare eventuali violazioni in materia e garantire ulteriori condizioni di sicurezza a tutti i fruitori del mare. Si ricorda infine che è sempre attivo il numero blu per le emergenze in mare 1530 e che presso la Capitania di Porto di Mazzara del Vallo è disponibile il servizio di front office dalle ore 8 alle ore 20, 7 giorni su 7.